Hello, sono Nigel Parrott e sono inglese. Vengo da Dover. Avete presente le bianche scoglieri? Sono titolare della scuola di lingua The World insieme alla mia socia Daniela. Hello, mi chiamo Daniela Calascione, sono italo-sudafricana. Sono nata a Roma ma cresciuta in Sudafrica, quindi parlo correntemente italiano ed inglese. Piata lei! Certo, non tutti hanno la mia stessa fortuna. Ed in un mondo che tende sempre di più alla globalizzazione, la comunicazione può essere un problema. Hello, how about you? Oh yes, I love pizza very much. Il nostro obiettivo è di fare in modo che, se chiedete una birra in un bar di Alaska, non vi venga servito un bar. Non molto simpatico, vero? Ma non preoccupatevi, ci sono molti modi per imparare una lingua straniera ed evitare così un faccia a faccia con un orso. C'è il metodo fai da te. I saluti. Ripetete quando sentite. Hello. Good morning. Per i ragazzi c'è la scuola pubblica. Be silent. Ci sono le grandi scuole private. Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is on the door. E poi c'è il metodo The World. Al centro linguistico The World partiamo da un presupposto molto semplice. Che non tutti i clienti sono uguali. C'è chi deve imparare l'inglese per il lavoro. What? Repeat, repeat, don't understand. Speak Italian. Italian. Qualcuno capisce l'inglese qui dentro? Magari anche la svelta. E la prossima settimana arrivano i clienti americani. Chi deve prepararsi per un esame? Il verbo to be, essere, I'm, la forma contratta di I am, sono o mi chiamo. Chi ha bisogno di perfezionare il suo tedesco tecnico? E chi semplicemente vuole imparare una seconda lingua? Ciao, ti posso offrire qualcosa da bere? No entiendo, tu parli spagnolo? Oh, ok, io, te, offrire, bere... No entiendo. Bere, bere, bere. Adios. Qualunque sia il vostro caso, noi ascoltiamo quali sono le vostre esigenze per potervi offrire la soluzione migliore e assicurare risultati più efficaci, ottimizzando tempi e investimento. Tutti i nostri insegnanti sono madrelingue e provengono da tutte le parti del mondo. Abbiamo ideato corsi per tutti i gusti, dai playgroups per i più piccini, ai corsi pratici per fare belle figure davanti al proprio capo. Dai corsi di preparazione per i tanto temuti esami internazionali, ai corsi per i non più giovanissimi, che invece di passare il tempo a giocare a carte o a bocce, prendono un tè in compagnia facendo due chiacchiere in lingua. Grazie a tutti.